Questa sera Falzerano non ha candeline da spegnere, però il bilancio, almeno dal punto di vista personale, è ottimo perché ha fatto una grande partita, un gran gol, non è bastato. Marcello, la sensazione è che questa squadra non abbia raccolto quanto seminato, soprattutto in questo giorno di ritorno, e il trend è casalingo, è impietoso, ricordava anche prima Alessandro Nesta, che non riesce a capacitarsi di questi risultati, che arrivano dopo ottime prestazioni. Che cosa succede a questa squadra nei momenti decisivi della gara? Che cosa succede? Questa è una domanda alla quale non so rispondere adesso. Io so che noi ce la mettiamo tutta, sia durante la settimana che poi durante i 95-96 minuti della partita. Adesso è un aspetto al quale, come ho detto prima, bisogna riflettere, nel senso che è vero, tante partite, soprattutto queste importanti decisive, le abbiamo perse. E quindi è un aspetto al quale bisogna pensare, però la classifica dice che ce la possiamo ancora giocare, siamo ancora lì, e quindi penso sia più giusto adesso concentrarsi su questo e quindi da domani ripartire, allenarsi e preparare la partita di sabato. Sì, infatti è inutile essere ripetitivi, il Perugia la partita l'ha fatta, ha sbagliato occasioni importanti sul 2-1, meritava almeno il pareggio. Adesso due partite chiave, in due partite si decide la vostra stagione. Sì, sì, saranno come due finali per noi, come una Champions League. Quindi siamo carichi, soprattutto, prima negli spogliatoi ce lo siamo detti, ci crediamo. E quindi, appunto, come ho già detto, sarò ripetitivo, ma noi da domani la prepareremo e cercheremo di fare il meglio. Allora, è importante innanzitutto non perdere la Spezia, poi è chiaro, l'obiettivo è quello di vincere. Firmerebbe e falseranno per quattro punti in queste due partite? No, io adesso non firmo per nulla, cerco di ottenere tutto. Sicuramente ci ha fatto male, la benzina non mancava. Loro sono stati bravi, hanno tenuto palla, palleggiavano bene, si muovivano bene a centro campo, comunque loro sono una squadra molto forte. Abbiamo avuto, comunque, nonostante questo, diverse occasioni nelle quali potevamo sfruttare e fare gol. Non è arrivata la zampata vincente, siamo sempre qui, comunque, alle carce ferite. Come ho già detto, adesso concentriamoci sulla prossima partita. Guarda, no, in questa situazione è la prima volta che mi ci trovo, mi sono sempre trovato, adesso pensandoci, nella mia carriera ero o in fondo a giocarmi la salvezza o ero già tranquillo nelle posizioni quelle importanti di classifica. Quindi è una condizione nuova anche per me questa. E niente, sono curioso anch'io di vedere come ne uscirò e come ne usciremo tutti insieme. No, adesso, dopo lo rivedrò. Ho cercato di fare il meglio, ecco, come sempre.